Tutta prima, questa canzone di Somis for you è per tutti quelli che portano avanti la religione e l'unione, nello sbattersi e fare qualcosa per gli altri affinché questa busca possa sempre andare avanti affinché non esista una differenza tra il mercoledì e il sabato, non esista un caso affinché ci sia sempre la voglia di creare e più le cose sembrano difficili da fare più noi tutti insieme le faremo e le faremo, le faremo di certo, questa canzone si chiama It's the kids are violent di cuore per ognuno di voi ognuno di voi che sia il suo personale, che siamo uniti, che sono un'unione It's the kids are violent di cuore per ognuno di voi It's the kids are violent di voi It's the children Grazie per la visione 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 Grazie per la visione